...di tecnici fra i miei squadri. Quello del portiere è ovviamente un ruolo di potere, si rimane sempre soli e delle volte finisce malissimo, come in queste circostanze. È una distanza profondissima quella che separa le due squadre. Alex Telles, Condot Bia, Gabriel Jesus, occhio al pallone filtrante, grande pallone verticale, pallonetto delizioso che non ha lasciato scampo al portiere. Il portiere qui non ha avuto davvero scampo. Ha scavalcato con freddezza e precisione. Partire a senso unico.